Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno e ti ringrazio. Oggi ti parlo di Gilera Bullit 50 del 1990, ma prima saluto l'amico Warner che ha contribuito attivamente allo sviluppo del canale, il meccanico d'auto che ha restaurato un malaguti MRX 50 del 1989, la sua officina di riparazione auto si chiama WM Auto Service, si trova via San Michele 15 a Briccheraseo, provincia di Torino. Quindi per un contatto immediato il numero di telefono è 338 22 39 795, c'è uno sconto, questo te lo dico, del 10% per chi si presenta con il nome Cocco, comunque si fa riconoscere provenendo dalla visione del canale. Poi l'amico Matteo che saluto mi ha chiesto di parlare appunto di questo Gilera Bullit 50 e volentieri andiamo a vedere insieme le caratteristiche di questo interessante ciclo motore che si presenta con soluzioni molto particolari come vediamolo alcune di queste, in particolare dicevamo il freno ulteriore, quindi un generoso freno a disco della Grimeca con un diametro notevole dopo lo vediamo qui nel dettaglio, la forcella che è questa con un diametro particolarmente rilevante e poi la sospensione posteriore in monobraccio una soluzione sicuramente originale per un ciclo motore. A questo punto vediamo la foto in questa bella immagine che va a rappresentarla, eccola qui, quindi un ciclo motore caratterizzato da linee particolarmente moderne, forse unica ecco nel panorama, non è un tubore, prettamente un tubore e io penso che sia veramente unico nel suo genere ma non sono solo io a pensarlo tanto che appunto ha degli estimatori notevoli. Stavo dicendo, passiamo dal motore, si partiamo dal motore che è raffreddato a liquido, la cilindra è di 49,93 cm3, il cilindro è in alluminio con la canna trattata al G-Nisil, un trattamento il cui a cronico sta per Gilardoni che è un noto produttore appunto di cilindri, nickel-silicio, quindi un rivestimento resistente all'usura che migliora la scorrevolezza appunto del pistone all'interno del cilindro, la missione poi a valvola lamellare nel cartel del motore, chiaramente originario è il carburatore dell'Orto 14-12 che però veniva subito o sostituito, comunque adattato per avere più potenza perché comunque le caratteristiche sono da vera piccola moto, ma adesso la vediamo un po' alla volta, partiamo quindi dal telaio che è una struttura bitrave, si vede appunto il bitrave dove c'è la scritta di cilera, sono due travi paralleli che poi vanno a confluire nella parte in cui si innesta il porcellone posteriore che è appunto anche questo manobraccio, infatti sul lato destro vediamo non c'è nulla, quindi anche questa è una soluzione tecnica molto particolare. Poi abbiamo la forcella teleidraulica con gli steli appunto di notevole, dimensione da 30 mm di diametro e la corsa di 120 mm, la sella alta 830 mm da terra, quindi abbastanza alta ma anche piuttosto stretta, quindi tutto sommato adeguata al tipo di ciclomotore, il posteriore poi siamo in presenza del forcellone, abbiamo detto monobraccio con il mono ammortizzatore, olio pneumatico, una corsa della ruota di 90 mm, le ruote molto belle, le leghe di alluminio a razze sono da 16 pollici all'anteriore come il posteriore, poi abbiamo l'impianto frenante anche qui notevole, diverso soprattutto all'anteriore perché abbiamo un disco, qui non si vede ma c'è un disco di generose dimensioni in particolare di 240 mm, metà al posteriore il freno a tamburo con diametro di 140 mm, il peso dichiarato a secco di 75 kg. Se ti è piaciuto il video metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella, prima gratis non ti costa nulla, ma sei sempre aggiornato a giornato sui nuovi contenuti e quindi io ti ringrazio. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi, ciao e buona serata.